Allora, vlog, 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 vabbè Charme Goi glielo facciamo la pubblicità, vlog ragazze, ciao, ma noi siamo a Cioccolateano, solo noi non abbiamo cioccolata, niente, però noi faremo cioccolate il balletto, cioccolate, come dici? Allora, giochiamo qua con l'animazione, penso tra un'oretta, noi facciamo un po' di giochi con tutti i bimbi, i balletti, ma come è professionale lei? A giovazi zipalta, i bagnisti, i bagnisti, i bagnisti, i bagnisti, i bagnisti, and non todas I dropped it, dropped it, I dropped it And on the way I dropped it A little boy he picked it up And put it in his pocket A tisket, a tasket A green and yellow basket I wrote a letter to my love And on the way I dropped it Dropped it, I dropped it And on the way I dropped it A little boy he picked it up And put it in his pocket And we're going in the corner Come in the corner, come in the corner Come in the middle of the time In this scene we forgot the dress We put the clothes on And we put the clothes on He made the image It's hot It's hot It's hot Xiaomare Thank you It's hot It's hot Continuiamo la passeggiata con le massacce che ho giocato. Veramente non si vedono più per una volta la spontaneità dell'artista perché non vogliamo prepararci per poter tornare in un locale, in un teatro. Ci sono tutte le possibilità quando il giorno del testamento non ha riparne. Ciao, si, entra qui la sentita. Allora... Ragazzi, vedi, cadè? Ragazzi, vedi, cadè? Ragazzi, vedi, cadè? Che è successo? Ma devo mettere la nuvoletta di Fantasia nel vlog. Si vede, si vede, si vede! No! Si, qua, guarda, qua! E va bene, hai un'altra... Ma metto la nuvoletta anche qui! Che vuoi, traditore? Ciao! Ciao! Ciao!